Ciao a tutti amici di TCG Television Ben trovati a una nuova video sbustata Oggi abbiamo qualcosa di particolare Mi è arrivata questa simpaticissima busta dal Canada Come si può vedere dai numerosi fiancobolli appiccicati sopra Alcuni anche molto belli come questo qua con gli strumenti musicali Vabbè, lasciando il discorso Avremo questa apertura di questa busta speciale Riguardante il gioco di carte Pokémon Card Game Dunque vediamo insieme il suo contenuto Diciamo che la tagliamo per fare prima Perfetto Veloce e sicuro Questa è la busta vuoto E un foglio di carta Che contiene un pacchettozzo di carte Andiamo a scoprirle assieme Uno scotch così pesante Non mi era mai capitato Madonna, neanche sui pacchi da imballaggio Ottimo Possiamo iniziare a vedere E partiamo con questo Infernape olografico In duplice copia Proseguiamo con Sigily Espansione Legendary Treasure Anche questo in duplice copia Adesso andiamo su qualcosa di più easy Proprio delicato come Oh, un dragalge addirittura reverse Doppio dragalge reverse Non male Non male E poi, 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 poi Abbiamo un bellissimo Crobat reverse del Team Plasma Carta utilissima Per il mazzo veleno In doppia copia anche questa Monocopia di Green Ninja X Nuovissima X Uscita da poco nei team Con 170 punti vita Ha un'energia acqua Questo attacco infigge 30 danni A uno dei Pokémon avversari Non applicare debolezza E resistenza ai Pokémon in panchina Ha 3 energie 120 danni E scarti un'energia acqua Non male Poi abbiamo un Tundurus X Del Team Vediamo qua il simboletto promo Ho anch'esso con 170 punti vita Questo, beh, ormai è molto famoso Giriamo la carta Ed abbiamo Lugia X Del Team Plasma Anch'esso promo E infine Una doppia copia di Toxic Rock X Ultima X Uscita nell'ultima espansione Di Flashfire Con due attacchi Triple Poison Ha due energie in colore Infligge Lo stato veleno All'avversario E mette tre segnalini danno Anziché uno E ha tre energie Due psichiche 80 danni Questo attacco Non subisce resistenza Diciamo che adesso Possiamo montare Un ottimo Mazzo Veleno Grazie a tutti Per la visione Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao